Che guardi? La nostra nuova casa. Ma da qui non si vede. Ma te l'avevo detto che non si vede da qua. Ma se volete potete venire pure voi, eh. Anzi, pure meglio. Eh, amore, vatti a preparare, vai. Mamma, di che cosa stai parlando? No, siccome ho pensato moltissimo a quel fatto che diceva lui l'altro giorno, no? Che la casa è troppo piccola per tutti e quattro. Secondo me ho trovato una soluzione. Ho visto che c'è un appartamento alla scala C disponibile, ristrutturato e molto più grande di questo. Eh, Tina, noi non cerchiamo una casa. Certo che cerchiamo casa. Cioè, se troviamo una casa più grande dove ci siamo tutti e quattro, va bene, no? Più grande. Più grande, Francesco, non è questo il problema. Sì, però, Tina, nella scala C gli appartamenti sono tutti piccoli. Di piccolissimi. Ma che frega, andiamo a vedere, sta qua dietro, che ce frega, dai. Francine, la scala C gli appartamenti sono enormi. Ma che ne sono? Grazie a tutti